Noi di Fresh dal 2007 ci impegniamo in una ricerca costante di stile e qualità. Abbiamo deciso di collaborare con Astroflex perché rispecchia esattamente la nostra idea di brand di calzature. Essendo la scarpa ci sono dei buoni materiali, se la costruzione è buona e si adatta al piede la tua scarpa diventa effettivamente la scarpa buona. Questa è la ricetta di Astroflex, creare una scarpa che si adatti al consumatore e non il contrario. Grazie a tutti!